salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video finalmente esce la top 4 del primo torneo fra yukitubers dove abbiamo i rispettivi abbinamenti allora mattech generation hit contro simone del team shadow master e yangus di kuwait contro sildagra quindi ci sarà la rivincita per yangus si vedrà allora voglio precisare che stavolta sarà eliminazione diretta quindi vincitori dei match disputeranno la finale e il vincitore del torneo sceglierà il formato e quindi la banned list con i rispettivi mazzi dell'epoca diciamo così per il secondo torneo fra yukitubers quindi non è che il premio sia chissà che cosa però mi sembrava giusto premiare il vincitore in un certo senso e nulla come sempre a fine video metterò i risultati del quarto turno e cercherò di registrare i match della top 4 e nient'altro da dire prossimo video sarà non sarà deck profile nemmeno unboxing sarà qualcosa di più particolare e mi auguro sia d'aiuto e stavolta non ho più nulla da dire quindi lasciate un piacere un commento iscrivetevi al canale e rivederci al prossimo video